A marzo ricorrerà nei 40 anni della scomparsa del genio del cinematografo Lucchino Visconti, che fu anche uno dei più grandi uomini di cavalli del secolo scorso. Lucchino era nato il 2 novembre del 1906 a Lonate Pozzolo. Era figlio di Giuseppe Visconti di Modrone, conte di Lonate Pozzolo, duca di Grazzano Visconti e tanto altro, e di Carla Erba, proprietaria della più grande casa farmaceutica italiana. Si racconta che Alessandro Manzoni si sia ispirato a un suo avo per la creazione dell'innominato nei promessi sposi. In famiglia l'amante dei cavalli era suo zio e la passione divenne totale dopo aver fatto il militare come sottoufficiale di cavalleria a Pinerolo. Lucchino Visconti prese i colori, giubba bianca con fascia e berretto verde, giovanissimo, aveva solo 23 anni. Ma rimediò presto una squalifica come cavaliere e si dedicò all'allevamento, proprio quando Tesio stava regolando i conti con i suoi prestigiosi competitors del tempo e metteva in cantiere il suo colpo dei colpi, Nearco. Questo era ancora solo un progetto nella mente di Tesio quando nel 1930 arrivarono i primi successi di Lucchino, giovio ed arma bianca, i suoi primi cavalli. Ma Tesio era già al top con Cavalier d'Arpino. Per molti anni aveva vissuto con i cavalli, li aveva domati, aveva partecipato alla loro vita, alzava alle 3 di mattina, li sgambava a San Siro, andava in giro con loro, dormiva con loro nei vagoni che li trasportavano in Francia o in Inghilterra. Aveva vissuto proprio aggrappato i suoi cavalli per fare 3 o 4 anni della sua vita. Zeffirelli ricorda i suoi esordi ippici quando viaggiava in van assieme agli uomini di scuderia per non abbandonare neppure un istante i suoi protetti a quattro zampe. Incredibile quale raffinato intellettuale si nascondesse dentro quel ragazzo divorato dalla febbre dell'impica. E poi avvenne il fatto. Visconti seppe che Tesio voleva sbarazzarsi di Sanzio, troppo sensibile per sopportare i suoi allenamenti. Si fece avanti e se lo portò via. Gli aveva diagnosticato i reumatismi. Lo curò, lo tenne lontano, come fanno i cristiani, dall'umidità e dal terreno pesante e acceccò il culo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sanzio vinse da lontano il Milano del 32 e la faccia di Tesio, che pure si congratulò con chi glielo aveva soffiato, non era mai stata così dura. Nacque allora la grande rivalità tra i due, che per un decennio, tanto durò la militanza epica di Visconti, prima che virasse verso lo spettacolo, anche se gli ultimi prodotti del suo allevamento furono venduti nel 42, si evitarono accuratamente, fronteggiandosi però con fiero puntiglio. Quando Sanzio, dopo aver vinto anche ad Ostenda, naufragò nell'arche sotto la pioggia e sul pesante, qualche maligno disse, da aver visto Tesio, sorridere del fatto. Proprio nel 32 aveva incontrato Jean Renoir, grazie alla sua fiamma, Coco Chanel, e con lui presto condivise la passione politica, comunista e la voglia di fare film, una passione che crebbe parallela alla sua vita ippica, finendo poi per prendere il sopravvento sul suo primo amore. Qualche anno dopo cedette Talma alla Mantola, propiziando la fortuna di quella scuderia. Ma come riuscirono a mescolarsi in lui i suoi due grandi amori, i cavalli e la recitazione? Non erano del tutto indipendenti, sembra. Uno dei suoi più grandi attori, Edir Bogard, ci racconta come Visconti avesse ben portato sul set la sua attenta psicologia ippica, in questo raro e bellissimo documentario della Rai. Potrebbe sembrare offensivo, ma non lo era. Fu quando lavoravamo alla caduta, dopo un paio di settimane. Mi disse, io allevavo cavalli prima di diventare regista, e so che gli attori sono come i cavalli. Ci secca essere un cavallo? Io dissi no. E lui, io so quando un cavallo esce dai box sulla pista, so quale cavallo vincerà, immediatamente. C'è quello che quando si apre il box all'improvviso esce fuori molto spaventato e attento. Le narici che fiutano, mette fuori una zampa, poi l'altra, ed esce molto lentamente. È timido, ci mette tempo per essere pronto. Poi ce n'è un altro, che esce, bom 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 bom. Questo perde la corsa, e il primo la vince. E aggiuse, tu sei come questo cavallo, esci fuori piano piano, annusi in giro, e vinci. E così fu. Come uno dei suoi personaggi bruciati dalle proprie passioni, Lucchino Visconti si spense a 70 anni, dopo una vita di cavalli, di amori di ogni genere, e di film memorabili, che più dei suoi campioni lo hanno rappresentato nella storia del nostro paese. La musica, che ce lo ha raccontato, era quella del Gattopardo, forse il suo più celebre capolavoro. La musica, che ce lo ha raccontato, era quella del Gattopardo,